Ciao ragazzi, oggi video bonus sull'argomento che ormai sta tenendo banco su ogni tipo di blog, instagram, dappertutto Parto con una premessa, non sono nessuno per giudicare Ma penso di essere una persona che è stata nel mondo dei motori praticamente da quando è piccolo E che due parole per analizzare la situazione che si è andata a creare possa farle Perché molto spesso quando avviene un disastro geologico diventiamo tutti sismologi E allo stesso tempo quando succede qualcosa nella MotoGP diventiamo tutti piloti di caratura mondiale Ne avevo già parlato a Sky Race Anatomy l'altro giorno Però appunto per pochissimi secondi però avvia necessità di diretta Quindi vorrei cercare semplicemente di analizzare quello che è successo dal punto di vista del pilota E cercare di capire perché ne è uscito un gesto così completamente senza senso e sconsiderato Partiamo col dire che da quando si passa il livello del CIV e si va al mondiale Non è più un puro divertimento Per svariati motivi La pressione mediatica La necessità di fare risultati per gli sponsor E via dicendo È un ambiente dove la gara prima sia un fenomeno E la gara dopo devi scusarti del perché hai fatto schifo Quindi questi ragazzi che hanno 17, 18, 19, 20 anni Devono portarsi già un bel carico addosso E se di testa non si è ben preparati Possono accadere brutti scherzi E il problema è proprio questo Per stare al mondiale dove il livello è massimo Dal primo all'ultimo sono i piloti migliori al mondo Non ci si può permettere di essere forti solo in pista Ma anzi il fenomeno lo si riconosce da questa Da come sa gestire le situazioni avverse e le situazioni positive Diciamo che non devo farvi degli esempi Detto questo molto semplicemente Se sei un pilota che va forte in pista Ma non sai reggere i ritmi e le pressioni Che ti richiedono un campionato mondiale Questo nei casi limite è quello che succede Purtroppo la nota negativa di tutto questo Oltre ovviamente all'azione che ha fatto Romano È la completa inadeguatezza della punizione inflitta da Dorna Perché in questo modo passa il messaggio sbagliato Che per un gesto del genere Dove ormai le immagini le avete viste e riviste Quindi non so neanche spiegarvele Il massimo che può succedere sono solo due gare saltate Ragazzi è niente E ancora peggio sono stati i privati Che hanno dato la lezione più dura al pilota Con il team attuale che lo ha licenziato in tronco E il futuro team Mv Augusta che lo ha scaricato Ma il problema è che dovrebbe essere completamente all'inverso E sinceramente non capisco questa leggerezza da parte dell'organizzazione E ricordiamoci perché molta gente ha la memoria cortissima Che è recidivo per questi comportamenti Ricordiamo quando ha preso a calci la moto di Ayo E poi gliela ha anche spenta durante le prove di partenza Per esempio Concludo dicendo che tutti noi possiamo sbagliare Sto vedendo veramente troppi insulti e odio verso i nati e la sua famiglia Che comunque non c'entra assolutamente nulla Capita il momento di completo annebbiamento mentale Nel quale facciamo stupidaggini Però allo stesso modo ci deve essere un'entità superiore Che fa capire la lezione Per esempio invece delle due gare inflitte che sono una cosa ridicola Sospenderlo per tutto questo campionato Che tanto non perde niente perché non è che si sta giocando chissà che cosa Però anche le prime quattro gare del 2019 Dove già partirebbe quindi molto svantaggiato Lì sì che scatta nella testa la consapevolezza di dire Veramente ho sbagliato Spero di non avervi annoiato troppo in questo sproloquio Se volete condividete Se volete iscrivetevi Gas e ci vediamo al prossimo video